Cleos Connect è una piattaforma sicura per lo scambio di documenti. Consente di condividere documenti con le parti esterne delle vostre pratiche direttamente da Cleos, eliminando il rischio relativo allo scambio di documenti riservati tramite e-mail. Anziché mandare e-mail con allegati pesanti, i vostri contatti riceveranno una semplice e-mail di notifica. Dovranno solo cliccare sui link presenti nei messaggi per scaricare i documenti che volete condividere. Per cominciare a utilizzare Cleos Connect è necessario attivare il modulo Cleos Connect, navigare fino alla schermata Configurazioni Studio, Studio, Licenze. ed attivare il modulo Cleos Connect per l'utente interessato. Nella sezione Configurazioni Studio, Studio, Generali è necessario impostare le informazioni di contatto per Cleos Connect cliccando su Modifica. Queste informazioni appariranno nella mail di notifica inviata ad utenti ad altre parti, nonché in Cleos Connect quando si condividono documenti con questi. In caso questi dati non venissero compilati vengono richiesti durante la prima condivisione in quanto obbligatori. È possibile condividere la pratica fornendo accesso alla scheda dei relativi documenti dal menu 3 punti, scegliendo la voce Cleos Connect opzioni di condivisione. Dal tasto Inserisci è possibile selezionare l'anagrafica del soggetto con cui condividere. È necessario infatti che venga prima creata l'anagrafica per permettere la condivisione. In automatico l'email selezionata è quella censita nell'anagrafica del soggetto. In caso non si è inserito, cliccando sul campo vuoto, è possibile inserirla manualmente. Confermare cliccando su Condividi. A seguito della condivisione il destinatario riceverà una mail contenente un link di accesso a Cleos Connect. Al primo accesso gli verrà richiesta registrazione al portale. Successivamente sarà in grado di accedere a Cleos Connect sempre con le stesse credenziali create in fase di registrazione. In questo modo l'utente esterno potrà caricare e condividere documenti, monitorare i documenti caricati e modificati dallo studio. Scambiare note, appunti e commenti. Conservare atti e bozze in un'unica area. Nel caso venga condivisa la sola pratica, questa risulterà vuota dall'utente esterno. Saranno visibili anche i documenti nel caso in cui questi vengano condivisi puntualmente. In fase di condivisione sarà possibile anche includere un messaggio nel campo commento.